La scorsa settimana l'ente regolatore del farmaco, l'americana FDA, ha espresso un parere positivo nei confronti dei dati sui vaccini pediatrici nella fascia 0-5 anni contro la Covid-19 prodotti da Pfizer e da Moderna. Come mai l'autorizzazione per questa tipologia di vaccini arriva soltanto adesso? E ancora, è veramente necessario vaccinare i bambini in quella fascia d'età? Ma il fatto che l'autorizzazione di questi vaccini arrivi così dopo rispetto a quella per gli adulti si spiega col fatto che le manifestazioni della malattia sono molto diverse appunto tra bambini e tra adulti. Infatti sappiamo che se un adulto, un anziano, contraria la Covid-19 potrebbe aver bisogno di cure mediche, di ospedalizzazione e di alcuni casi potrebbe anche andare incontro alla morte, mentre sappiamo che fortunatamente questi eventi sono molto più rari per i bambini. Quindi è più difficile dimostrare che un vaccino impedisca l'ospedalizzazione e la morte di un bambino perché appunto sono eventi meno probabili. Quindi questo giustifica delle tempistiche più dilatate perché serve raccogliere più dati per provare l'efficacia del vaccino. Nonostante i bambini normalmente facciano esperienza di una malattia più lieve rispetto agli adulti, però abbiamo visto che durante l'ultima ondata caratterizzata dalla variante Omicron purtroppo moltissimi bambini hanno avuto bisogno di cure mediche ed alcuni purtroppo sono anche deceduti. Quindi questo giustifica ampiamente l'uso del vaccino per quella fascia d'età e speriamo che possa essere approvato presto anche in Europa.